La creatura accorpata tra l'IRCS Bonino Puleio e l'ex ospedale Piemonte vacilla ancora per la totalità della copertura finanziaria. Da quasi due mesi dalla notifica del decreto, il centro neurolesi del professore Bramanti ha le chiavi di casa dell'ex presidio per poter riorganizzare la struttura, ma le condizioni economiche sono dubbie. A dimostrarlo è la necessità di aumentare le risorse umane da 163 come previsto a 215 e quindi aumentare anche il budget dagli 8 milioni e 400 mila euro decurtati dall'azienda Papardo a circa 13 milioni. Queste somme non sono bruscolini sostiene il direttore del Papardo Michele Vullo, intanto ieri mattina i vertici dell'IRCS con il direttore amministrativo del Papardo Domenico Moncada hanno incontrato l'assessore della salute Baldo Gucciardi per capire quali possano essere i fondi aggiuntivi. Nuovo summit fissato lunedì 8 agosto a Palermo al management della zona nord tramite il direttore generale Angelo Aliquo è stato chiesto un ulteriore sforzo pari a 1 milione e 200 mila euro per contenere le spese del personale. L'IRCS dovrà reperire almeno un altro milione di euro per contribuire con le sue casse. Il tempo stringe. Entro il 15 settembre, secondo il decreto assessoriale di accorpamento, il centro d'eccellenza di Via L'Europa dovrà aprire battenti nella piastra chirurgica con i posti di riabilitazione, le discipline correlate al pronto soccorso e i 31 posti per acuti. Si dovranno effettuare lavori di ristrutturazione e adeguamento per la nuova mission, afferma il direttore sanitario Alagna. Nell'arco di sei mesi si spera di completare anche il padiglione 6, rimasto edificio grezzo dopo i milioni spesi dalla protezione civile per l'ospedale Piemonte. Si dovrà pensare ad espletare i concorsi per 4 o 5 medici dell'emergenza al pronto soccorso per scongiurare nuovi allarmi di chiusure notturne come è successo nelle settimane scorse. Il papardo sta lavorando con il minimo storico di organico da imputare alla riduzione di posti letto pari a 410. L'IRX continua con i suoi 270 dipendenti e si avvarrà degli 84 posti letto ceduti dal papardo con l'integrazione della Stroke Unit per la cura dell'Ictus.